È stato lanciato con successo nella serata di lunedì direttamente dalla Vandenberg Air Force Base in California. Stiamo parlando del satellite ESEO, European Student Earth Orbiter, comandato direttamente dal centro di controllo missione del campus di Forlì. È un progetto didattico guidato dall'Agenzia Spaziale Europea, in particolare dal suo Education Office e da quella che adesso si chiama ESA Academy. È un progetto realizzato per gli studenti universitari europei, con l'idea di dare l'opportunità di ampliare le proprie conoscenze tramite un progetto pratico. È stato guidato ovviamente dall'ESA dal punto di vista del coordinamento, ma poi è coordinato tecnicamente da un'azienda italiana, in particolare con una solida base a Forlì che si chiama Cital. Quanti sono gli studenti coinvolti, i docenti e i ricercatori? In totale sono stati coinvolti circa 600 studenti fino ad adesso, negli ultimi cinque anni che è stata la durata del progetto. Sono studenti che provengono da dieci università d'Europa e in particolare da otto paesi membri. L'Italia è ovviamente uno di questi e che ospita oltre all'Università di Bologna anche il contractor industriale, la Cital, quindi ha un ruolo veramente primario in questo progetto. Come viene coinvolto il campus di Forlì? Il campus di Forlì ha due ruoli importanti all'interno di questo progetto perché uno è quello di aver fatto uno degli esperimenti scientifici, in particolare un ricevitore GPS per determinare la posizione del satellite, ovviamente con il coordinamento della Cital e con un progetto tecnico fatto ad hoc per poter rientrare all'interno dei requisiti del progetto. Il secondo è il centro di controllo missione che è proprio nel nostro laboratorio da cui controlliamo il satellite, gli inviamo comandi e riceviamo i dati.